Perugia Trento e Civitanova Modena, sono queste le due semifinali dei play-off scudetto di volley maschile. Tutto secondo pronostico, le prime quattro della regular season hanno superato il primo turno e ora si daranno battaglia per la conquista del tricolore. I Block Devils e i Dolomiti ci sono stati costretti alla bella con Ravenna e Verona ma ne sono usciti dominando, i campioni d'Italia e i canarini hanno avuto delle difficoltà in un incontro contro Piacenza e Milano ma hanno chiuso la pratica in due match. Le quattro formazioni più forti ora sono arrivate alla resa dei conti, giovedì riparte la caccia verso il trofeo più ambito. Analizziamo le quattro squadre ai raggi X e le percentuali di possibilità di conquistare lo scudetto. Perugia, 40% i ragazzi di Coach Bernardi hanno vinto la regular season dopo aver alzato al cielo la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, si sono brillantemente qualificati ai quarti di finale della Champions League. hanno sconfitto Civitanova per 5 volte in 6 occasioni e stanno mettendo in mostra un gioco sfumeggiante. Gli Umbri sembrano anche in grande condizione fisica e hanno ribadito di essere la formazione da battere, riescono sempre a uscire anche dai momenti più critici e il sogno di poter conquistare il tricolore per la prima volta nella storia è più vivo che mai. La semifinale contro Trento, remake di quella persa lo scorso anno, è assolutamente alla portata. Punti di forza, ovunque, le bordate di Aleksandra Ratanasievic, la classe di Ivan Zagisev, la possibilità di scegliere tra due martelli come Aaron Russell e Alex Berger, la solidità del libero Massimo Colaci, i centrali Simone Anzani e Marco Podraskanin. Civitanova, 30% i campioni d'Italia non sono i super favoriti della vigilia visto il livello di Perugia da cui sono stati battuti per bene 5 volte in stagione. La Lube ora è chiamata dalla durissima semifinale contro Modena, un big match che metterà seriamente in difficoltà i cucinieri considerando anche il concomitante impegno in Champions League con Trento. I ragazzi di Coach Miedei avranno però il vantaggio del campo e l'Eurosuale Forum potrà essere un fattore molto importante. Molto dipenderà dalle bombe di T.S. Vetan Sokolov e dall'estro di Osmani Hwantorena, con il supporto del libero Genia Grebennikov e del palleggiatore Mika Christensen senza dimenticarsi della possibilità di alternare giri cover di banda. Modena, 25% i canarini avranno un vantaggio fondamentale durante questi play-off non dovranno giocare la Champions League. Il doppio impegno europeo di Civitanova potrebbe essere una carta in più in favore degli uomini di Stoici che vogliono provare a vincere il titolo dopo due anni. Gli emiliani si sono sempre esaltati nei big match e in una serie lunga avranno le chance per esprimere tutto il loro potenziale, anche se lo svantaggio del campo sarà importante. I problemi in spogliatoio non mancano il clima a volte non è dei migliori ma i mezzi sono eccellenti, dalla regia di Bruninho al Fenomeno e Arvin Engapet, dal solido centrale Max Holt agli opposti Giulio Sabi e Andrea Argenta. Trento, 5% i dolomitici, finalisti perdenti nelle ultime due edizioni, partiranno con poche chance. La squadra è andata in difficoltà più volte nel corso della stagione e sembra davvero difficile che riescano a vincere la serie con Perugia. Servirebbe una vera e propria impresa alla banda di coach Lorenzetti che dovrà affidarsi soprattutto alla regia di Simone Giannelli, a Capitan Filippo Lanza e al mancino Uro Sekovacevic sperando che l'opposto Luca Vettori si svegli nel momento più importante della stagione. Grazie per la visione!